La scuola primaria Mazzini è sicura? Lo stanno chiedendo da settimane con insistenza e finora senza risposte i genitori degli alunni che la frequentano, preoccupati da una serie di episodi che dallo scorso settembre stanno ponendo più di qualche dubbio sullo stato di salute dello storico istituto cittadino inaugurato il 16 ottobre 1910. Dall'inizio del nuovo anno scolastico l'ala ovest della scuola è chiusa, la ragione? Avrebbe dovuto ospitare alcune classi del liceo Brocchi, ad oggi però di liceali dalle parti di piazzale Trento non se ne sono ancora visti. Sempre dal primo giorno di scuola risulta inagibile anche la palestra, ovvero il vecchio atrio del secondo piano, da sempre utilizzato per l'attività motoria dei ragazzi. L'esatta ragione della chiusura, dicono dal comitato genitori, non è mai stata spiegata, senza contare che da più parti vengono notate infiltrazioni d'acqua dal tetto e dalle pareti. Immediata parte la richiesta del comitato genitori, protocollata in municipio il 4 dicembre, per avere dal comune una copia della perizza sullo stabile scolastico. Non arrivano risposte, ma anzi un altro preoccupante episodio. Una parte del controsoffitto del bagno dei disabili crolla. I dubbi si trasformano in paure, perché se prima il problema era rappresentato dagli spazi ridotti che costringevano i ragazzi a rinunciare ai laboratori della Laovest e trasferirsi fino alle medie per le ore di ginnastica, ora non si tratta più solo di disagi. Sul banco degli imputati adesso è la sicurezza stessa della scuola. I genitori tornano a protocollare richieste, questa volta alla segreteria dell'IC1, ma le risposte non arrivano. Così, si rivolgono a noi di Rete Veneta per avere una replica che siamo andati a chiedere immediatamente all'assessore all'istruzione, Oscar Mazzocchin. Una giusta preoccupazione che però ha delle risposte importanti sul bilancio approvato del 2019. Ci sono 800 mila euro, per cui partiremo a breve con il bando. 400 mila per la messa in sicurezza e 400 mila per il tetto, per cui io direi ai genitori di essere molto tranquilli. Ma oggi possiamo dire che la scuola Mazzini è sicura? Io sono molto tranquillo a questo punto di vista, non c'è un problema di sicurezza, la scuola è stabile. C'è un problema di infiltrazioni da parte del tetto, un tetto molto vecchio che ha bisogno di un intervento importante. Però insomma, siamo molto tranquilli che si va a scuola, Mazzini, si può andare a scuola tranquillamente.